ma non è nero non è nero è stupido io non ne voglio il pane nero la pasta nera non la voglio non è nero a me dieta o non dieta io non la voglio è meglio della lasagna questo è è meglio della lasagna di nonna maria è buonissimo questo è il riso basmati ma a me il riso mi piace è la magna adesso bravo è buona la pasta al forno la lasagna di nonna è buona tra un mese tra un mese ci vediamo pasta presto ciao si pasta presto ciao stai con me no stai con me adesso stai con me adesso hai visto il bel bastone va 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 dai sei tutto in rotta via 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 come la nervo si il sound è quello è proprio inconfondibile grande pietra come si balla questa, questa così, com'è, com'è, vai, sempre così, come si balla, vai, il grande Pietro, numero uno del ballo, grande, vai, vai, altro che Sanremo, ragazzi, insieme, 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 vai, vai, insieme, mamma mia, già registrato, è registrato, sì, sì, registrato, grande, arrivederci, grazie, attenzione,